Cari amici, cari amici, tanti saluti da Serafino Massoni. Oggi è domenica 12 maggio 2013, titolo del video, Sandra Zampa non vota Guglielmo Epifani. Buongiorno, Sandra Zampa è una gran bella signora che ha fatto il suo intervento all'Assemblea Nazionale del PD ieri, 11 maggio 2013. Ha scritto la sua relazione, appare proprio sul sito del PD, poi nel riassunto del video cercherò di lasciarvi il link dell'intera relazione. E che cosa dice, cosa dice, Sandra Zampa, questa bella signora che fa parte del PD, cosa dice? Dice che lei non ha votato per Guglielmo Epifani per un semplice motivo, che Guglielmo Epifani non ha voluto mettere il dito nella piaga, cioè non ha voluto parlare della faccenda dei 101 parlamentari PD che anonimamente non hanno votato come Presidente della Repubblica. Lo sapete, no? Di chi parliamo? Non l'hanno votato, capito? Non l'hanno votato come Presidente della Repubblica. Non l'hanno votato per Romano Prodi, ovviamente. 101 dice, se vai a interrogare poi tutti i parlamentari del PD, non ne trovi uno che ti dica, io mi sono astenuto, non ho votato per Romano Prodi. Ed è molto, molto, molto arrabbiata per questo atteggiamento, Sandra Zampa, perché dice che questo atteggiamento è un atteggiamento che fa capire che una buona parte del PD e voleva le larghe intese, capito? Voleva le larghe intese. Mi dice, il voto dei 101 franchi tiratori corrisponde a un disegno politico preciso, arrivare al governo delle larghe intese. E io ricordo che questo discorso l'avevo sentito fare qualche giorno fa, anche mi pare da Marina Sereni, anche Marina Sereni aveva detto le stesse cose. Cioè, è come se un bel pezzo del PD fosse felice e contento, larghe intese. Guardate, cari amici, io non ho pregiudizi per nessuno, cari, però sembra che il PD non fosse felicissimo di allearsi con il Movimento 5 Stelle. Sembra che il PD, buona parte del PD, non fosse felicissimo di allearsi con il Movimento 5 Stelle. E per cui sembra che si sia fatto un po' di tutto, un po' di tutto, per arrivare proprio alle larghe intese, perché con le larghe intese l'aria è più buona, capito? È più ossigenata. Ripeto, ha cominciato Marina Sereni a botare il sacco e adesso arriva Sandra Zampa, intervento di Sandra Zampa all'Assemblea Nazionale dell'11 maggio 2013. Poi lo leggerete voi, perché, ripeto, nel riassunto vi lascio il link. Ah, proprio vero, come dicevano gli antichi romani, arcana imperi, arcana imperi, i misteri del potere, i misteri, arcani, arcani, i misteri del potere. Adesso il sacco è stato votato. Prima Marina Sereni e adesso Sandra Zampa. Sono entrambe due belle donne, tutte e due. Sia Marina Sereni che Sandra Zampa. E hanno detto la verità. Per cui dice Marina Sereni, ha concluso il suo intervento, dicendo io non voto per Guglielmo Epifani e perché Guglielmo Epifani non ha parlato chiaramente. Ecco qua. Avrei voluto sentire Epifani dire queste cose. Anche perché non lo ha fatto, non scriverò il suo nome sulla scheda e mi asterrò. Sandra Zampa, deputato del PD. Ecco, allora, sta saltando fuori, dopo tanto tempo che una buona parte, non so se la metà o più della metà del PD, non voleva un governo col Movimento 5 Stelle. Attraverso una lunga marcia, una buona parte del PD preferiva fare le larghe intese. Ecco la situazione, cari amici. Ecco qual è la situazione. Prima ha votato il sacco l'onorevole Marina Sereni e adesso vota il sacco l'onorevole Sandra Zanca. Va bene, cari amici. Poi vi lascio alla lettura completa dell'intervento di Sandra Zanca. Grazie, cari amici, se mi avete ascoltato. E a tutti voi, tanti saluti da Serafino Massoni.